Mi sono arrabbiato già tanto, prima del 2-0 siamo stati anche bravi a gestire il vantaggio, a non rischiare niente. Dopo il 2-0 mi sono arrabbiato tanto, lo dirò a ragazzi, infatti non sono nemmeno entrato nello spogliatoio perché una partita dovevamo gestita bene fino al 2-0 non si può rischiare di avere paura a pareggiarla. Ne parlerò con loro. È chiaro, dico in generale, che il pressing che abbiamo fatto il primo tempo su un campo pesante e così è normale che dopo non potevamo fare per tutta la partita quel pressing lì, a quei ritmi lì. Dovevamo casomai il primo tempo fare due gol invece che uno. Era normale che la Fiorentina poi tentasse il tutto per tutto il secondo tempo. e al secondo tempo in ripartenza dovevamo cercare più il terzo gol con più lucidità anche se il campo ha penalizzato i ragazzi tecnici veloci come Berenghè e Verdi perché la palla rimbalzava male e non riuscivano. Per fare l'azione in velocità, chissà di calcio, bisogna che il campo lo possa permettere. Si è pagato anche un po' quello, però non mi è piaciuto come ho detto prima il finale di partita. Grazie a tutti.